bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video guardate a parte ok alleno e vado se alleno a fare le minchiate a fare le sera preco no c'è workout chi workout hai cagato workout che vuol dire workout allenamento a corpo libero ma io che c***o adesso pare che sono uno che fa allenamento a corpo libero andiamo perché no e non l'ho mai fatto la gente fermo no no col piccolo col piccone col piccone vieni che mi serve da piccolarti zio io mi ammazzo ciao cosa che ti ho appena detto perché ti puoi restare per favore così resta in vita mi spieghi come resto in vita con una fottuta scala in mezzo a bella la lega non si è veramente una persona andiamo cioè ma lei non lei deve far mare mentre parla brutal non è che non può non è multità deve essere multitasking deve essere e deve capire che io proprio non so fare più delle cose contemporaneamente abbiamo notato brutale ci pusciano c'è qualcuno con il piccolo aspetta è un problema ciao my god 162 movimento sull'arco vieni movimento sull'arco cosa ma questo è un bot brutal pensi che sono ancora in edificio si sono sopra si trovo così allora piano 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 doppio uno giu piano l'altro non so dove bene così bene così nice una buona giocata guys una buona giocata cioè brutal diamo ci sono ci sono non ci sono cosa c'è o non c'è brutal non ci sono non ci sono cerchi di esserci che dobbiamo andare 6 in mezzo alla tempesta perché c***o sei in mezzo alla tempesta e non ne ho idea è neanche io quindi può uscire gentilmente e raggiungermi e potrebbe essere un'idea di scendini c'ha uno e non posso portare duemila robe so se il città ne è uno e dice ne sono tre lo stacca da 6 6 5 slot dell'inventario cos'hai io non voglio non voglio guardi non voglio neanche sapere voglio neanche sapere ma dov'è l'impulso glielo tirata ma quante ne aveva di impulso una lei mi dica ha tenuto un impulso e ha lasciato giù uno scendone corretto ha capito come pensa che sia worth questa cosa sarà worth perché noi non subiremo danno ho capito e quindi nonostante tutto lei ha tirato a me un impulso ed è rimasto con uno slot libero adesso esatto esattamente così entriamo dentro qua nel ponte o m questo uscidone eccolo sono contento le ho detto che Cristo 21 buongiorno la ringrazio perché ero incavolato nero stamattina e grazie a lei con la collaborazione arriva arriva bravo 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 come donna guarda quattro sei ci vuole un altro c'è la gente altra gente altra gente dove come altra gente è qui da me animo porto e qui nel box c'è gente brutale e sicuramente il post e come faccio venire lì e non ti muovere non ti muovere non ti muovere ok scusami niente niente vada vada la claccia ok ok brutale vada vada questo si vince dai le faccio da mente al coach no brutal la prego per carità piuttosto mi tiro una martellata sul sinistro non mi faccio da mente al coach coach mike in confronto è una nocciolina attenzione solo per oggi tre team due di due di uno devo entrare brutale potrebbe far cadere tutto sono i due di uno si ma va rampi rampi che è forti, calmati i x-shooter non sono forti, posso farmeli? vogliono droppare, vogliono droppare secondo lei no secondo me no, non può farli, cosa dici può fare più forte? loro sanno che da ieri 27 ha perso un attimo la direzione sono stunnati brutal, sono stunnati bello ha perso 20 danni sono lì a luogo sinistra no secondo me sì anche per quello sbaglio perché rimango senza mazze perché mi so troppo ma come fa questo? ma che minato che mazze mazze no 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 no